Tema statale a Milano, insulti alle forze dell'ordine, pareti imbrattanti con tanto di falce e martello. Per non parlare della violenta rissa che c'è stata nell'atrio principale fra diverse fazioni di comunistelli viziati. L'Università Statale di Milano per tutta la settimana si è trasformata in un campeggio abusivo di occupanti abusivi. Certo la gestione della Statale non è di vostra competenza, però il clima che si è creato a Milano a me non piace per nulla. Con molti di voi a braccetto con i centri sociali, diciamo che tutta questa roba di sicuro non ha contribuito a creare un clima diverso, anzi ha contribuito ad alimentare questo scempio. E i legami di una parte di voi con il mondo più radicale preoccupano tanto i cittadini milanesi. Tutto ciò va assolutamente in questa pericolosa direzione. Io mi aspetto che qualcuno della maggioranza si mostri indignato, dica qualcosa su quanto è accaduto alla Statale di Milano. Altrimenti la vostra sarà l'ennesima pericolosa connivenza. Grazie.